Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Life is Strange Ci ritroviamo di nuovo in mezzo alla tempesta Questo non me l'aspettavo C'è un cervo Che forse dobbiamo seguire, però mi sembra molto pericoloso E adesso? E che giro facciamo? Non è che magari posso scavalcare in qualche modo? No, eh Ah Ah Che? Mentre riavvolgio il tempo puoi muoverti in anticipo per teletrasportarsi Ah, non è vero Scusa, eh Se io riavvolgo Più veloce Ok Oh, bene Aspettami Sono morta? Ah, ok Devo riavvolgere prima che mi colpiscano, giustamente E adesso Sposati Devo riavvolgere, immagino Grazie No, non posso spostarmi Forse devo spostarmi Così Ok Oh Veloce Eh, vabbè Aspetta Ok, vai No, veramente Un attimo Datemi il tempo di attraversare questa zona C'è un giornale Ma quindi È il futuro questo? Chloé, tu sei qui Sono tornato Oh, mio Dio Questo è vero È vero Oh, man Questo è vero Max, cosa sta succedendo? Tu ti senti totalmente Non ti senti Non ti senti Mi senti Mi senti Un'altra vision La città Va a riavvolgere A un tornado Oro Oro Giava circa 5 tornadoes A ogni 20 anni Tu hai solo zonato No, no Lo vedo Mi senti La elettricità Nel'air Vabbè Vabbè Ok Chloé I'm not crazy But there's something else I have to tell you Something Hardcore Talk to me, Max I had this same vision Earlier in class When I came out of it I discovered I could reverse time Like I said Not crazy But high? Right? Listen to me How do you think I saved you In the bathroom? By reversing time? Yeah, sure I saw you get shot, Chloe Saw you actually Die I was able to go back And hit the fire alarm Ok, I see you're a geek now With a great imagination But this isn't anime Or a video game People don't have those powers, Max I don't know what I have But I have it And I'm scared shitless You need to get high It's been a hell insane fucking day Nevica? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees How? Climate change Or a storm is coming Ah, il tornado Max Start from the beginning Tell me everything Ah, ok Adesso ci crede Quindi Max Ha il potere anche di In qualche modo Vedere il futuro Però Come possiamo Cambiare questo futuro? Cioè Non possiamo Impedire che Si scateni un tornado Almeno non penso Oh povera Ma perché piange Questa E questo chi è? E questo chi è? Ah, bene, abbiamo concluso il primo episodio. Si può andare al secondo? Ah, intanto ci sono le... come si chiamano? Le scelte. Allora, il 65% ha denunciato Nathan. Come abbiamo fatto noi. Il 74% ha consolato Victoria, sempre come noi. L'83% è intervenuto per aiutare Kate. Ah, qua avevamo quattro scelte. E allora sì, probabilmente si poteva riavvolgere il tempo per nascondersi dentro all'armadio. Ti sei presa la colpa per Chloe. Hai dato la colpa a Chloe, sei rimasta nascosta e sei uscita allo scoperto per intervenire. Forse non cambiava tantissimo, perché ti sei presa la colpa per Chloe e sei uscita allo scoperto per intervenire. Quindi anche se ci nascondevamo, poi uscivamo e probabilmente ci prendevamo la colpa. Oppure hai dato la colpa a Chloe o sei rimasta nascosta e rimanendo nascosta, quindi il patrigno avrebbe dato la colpa a Chloe, secondo me. Quindi anche se ci fossimo nascosti, io sarei comunque uscita allo scoperto per intervenire. La scelta penso sia la stessa, la fin fine. Successivo. Oh, ci sono delle mini scelte. Ti sei fatta fare un retratto da Daniel. Oh, la maggior parte invece ha scelto di no. Hai firmato la petizione per la professoressa Grant e la maggior parte ha scelto di no. Hai aiutato Alissa? Non hai aiutato Alissa. Hai cancellato gli insulti sulla lavagna di Kate? Non hai cancellato gli insulti sulla lavagna di Kate. Questo me l'avete suggerito anche nei commenti. Non so se si possa fare ancora. Hai innaffiato la pianta? Questo sì, l'abbiamo fatto praticamente tutti. Hai toccato il test di gravidanza di Dana? Non hai toccato il test di gravidanza. Ah, ecco perché mi avete detto di controllare meglio la stanza di Dana. Hai riorganizzato le foto di Victoria? Non hai toccato le foto di Victoria? Beh, penso che non fosse importante questo. Hai scritto su un camper sporco. Dov'era il camper sporco? Non hai scritto. Eh sì, perché non l'ho visto. Dov'era il camper? Poi hai salvato l'uccello e hai lasciato morire l'uccello. Come la maggior parte l'hanno lasciato morire? Ma povero! Poi abbiamo rotto la palla di neve di Chloe. Non hai rotto la palla di neve di Chloe. Ok, quindi la maggior parte delle persone hanno riavvolto il tempo. Hai lasciato tracce nel garage di David? Non hai lasciato tracce. Perfetto. E poi hai letto le cartelle di David e non le hai lette. No, noi le abbiamo lette come la maggior parte. Doveva forse essere l'anticipazione del prossimo capitolo. Ok. Comunque, come si fa? Continua? Se io dico continua... Mi comincio il secondo episodio? Sui! Non mi comincio il giorno, perso? Cosa cosa? Cosa cosa? Tornare sempre che ti vedessi oggi. Ho sperato di qui, Max. È Rachel Amber. La posteri fosici di persona all'ac尾 Roseco all'channo di Blackwell. Ho paio anni fa, l'ultima è venuta in Arcadia. Tra un uomo. Tra un altro ragazzo. Tra un altro ragazzo. Cosa è fatta con lui. Cosa è l'iarchita? Cosa è l'unico. Che poi il tornado C'era scritto tipo 11 ottobre quindi mancavano Quattro giorni non abbiamo tantissimo Tempo Non so cosa si possa fare in quattro giorni Ritarda Ah sta suonando la sveglia Se io non volessi ritardarla Svegliati Non voglio ritardare la sveglia Eh vabbè ritarda Non so che ti dica Ma è camera nostra Mi sembra un po' incasinata Eh si è camera nostra questa Computer mi sembra quello Si c'è molto casino però Cosa è successo Ho bisogno di due Out of time Fuori tempo Invece il primo capitolo si chiamava Crisalide Che carino il pigiama Con i pulcini No lo voglio anch'io È bellissimo Sono troppo belli Alzati su Uh messaggio Aspetta che leggo Aspetta 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 Eh mamma mia quanti Ci sai Ippi Che mi dici di quella Di neve Ho detto un nuovo potere O sei tornata indietro nel tempo E hai capito tutto Non posso tornare così indietro Saputella E ho bisogno del tuo aiuto Come quando hai detto Al mio patrino Che era la tua erba Sul serio dobbiamo parlare O fare una colazione spaziale Al Due whales Offro io Aggelicato È bello avere una scagnozza Devo scappare padrona Ok per la colazione Ci sei Mad Max Te l'ho detto Per te sempre Niente emotico Ci vediamo al dio Nostra 40 minuti Ci sarò Non fare tardi O saprò che il tempo Non è dalla tua parte Non sballarti come in camera mia Sto arrivando Sei malvagia 40 minuti O peggio per te Ah c'è anche un messaggio Dalla mamma Ciao tesoro Spero Non ti sia Dimenticata Di annaffiare La pianta Che ti abbiamo dato Ma fai attenzione A non annegarla Le avevo dato da bere Aspetta Dovevamo farci Esatto La doccia Vestiti Posso mangiarmi un biscotto? No Credo di no Ok Max Let's hit the showers Ah si va le docce Ah non abbiamo un bagno privato in camera No Che brutta cosa È bruttissimo Non avere un po' più bagno Tanta la pianta come sta Guarda Che sia il caso Ti darle da bere? Perché la mamma ha detto Fai attenzione a non A negarla C'è anche un'altra Qui pianticella Poster Libro Foto Qua non è cambiato nulla Ah c'è la musica accesa Fai il letto Ecco brava Brava Vabbè dai proviamo a dare da bere alla pianta Speriamo non abbia esagerato Ah questa azione avrà delle conseguenze No speriamo non brutte Ok andiamo alle docce Non devo prendermi dei vestiti Usciamo così In pigiama Ma povera Ma si può fare anche i compiti questa Buzza Disturbiavola No non possiamo disturbarla Stanza di Brooke No Brooke non c'è Questa è la nostra Ah questa è quella di Kate Sì cancella la lavagna Ah però Kate non c'è qui Con lei posso parlare? Sì Ah mi sa che invece Questa è una conseguenza Del fatto che Non l'abbiamo aiutata Con la palla da football Che sta succedendo qui dentro? Buongiorno Oh Turn the goddamn music down People are sleepy What's happening Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh yeah Thanks again for releasing me from her captivity By the way The best and biggest news of the day Is that Trevor asked me to the Halloween shindig That's awesome Dana At least we're showing our faces together in public So you absolutely should go with us Borrow one of my outfits And come as a cute geek couple With your bitch Warren Uh I'm not big on cosplay Don't let life pass you by Max So are you coming to the party or not? Oh sì dai Andiamo If I hate it I can always go back To my room That's the spirit Max After this you'll be ready for a rave It does sound like fun Now I have to go contemplate my party future Pillole Okay Non fa commenti Portatile Vabbè Non Non andiamo a guardare I wanted to be a derby girl But I almost broke my feet Just putting them on Dana takes her Blackwell spirit Seriously I can't even imagine What life would be like Being a cheerleader Dramatic I guess Qua abbiamo visto tutto Sì Potrei parlare ancora con lei Guarda Cos'è? No 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 Aspetta aspetta Una lettera da Logan Non ti merito Forse un ex Cos'è questo? Giacca di Trevor Allora Ci sono delle pillole Contraccettive Sopra il bancone E la giacca di Trevor Qui in stanza E lei È super felice Tant'è che stava ballando Sopra il letto Proviamo a riparlare con lei Ah va bene Niente però Non c'è Quel test di gravidanza Però abbiamo visto Altre cose Interessanti Tipo queste Va bene Posso uscire? Stanza di Juliet Ah Ok Scusa Non l'avevo vista Ma ancora? Perché? È Victoria È Victoria? Oh bene Abbiamo fatto una cosa buona Eh lo farò Ah è la tipa di prima Oh scusa Ma chi è questa? La 217 Eh non mi ricordo più Chi è Ah Stella Hill Comunque Andiamo A farci la doccia Ah Kate Eccola qua Adesso le parliamo Tanto questa è rotta Qui c'è già qualcuno Che si sta facendo la doccia Quella lì sarà la doccia Per noi sicuramente Poster Guarda Guarda Che cos'è? Eh non capisco che cos'è però Ah distributore di assorbenti Va bene La prima volta che ho avuto la doccia Ho avuto la doccia Ho avuto la doccia Ah il libro Ah il libro E'erro E'erro Oh beh, eccole qua Victoria, that wasn't me Oh my god, right Don't be shy I think it's awesome you set a tongue record on video You're going to be sorry someday Oh boohoo, I'm sorry you're a viral slut I'm sure she had fun Looks like it I know Nathan hooked her up And you know he has the good shit Preach it, sister Yup, I still have goddamn paint all over my face Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel We ran all the way Give it a rest, Taylor Now I know if I'm in an accident I won't rely on you or Courtney for help You can hang out with Kate Or Max She's a weirdo with that dumb camera I hate that I'm so quirky crap Anyway, let's leave the link to Kate's video So everybody gets a chance to see her in action You are such an evil biatch I love it Ecco svelato il mistero di Kate È andata ad una festa Nathan ha usato la droga che spaccia Le hanno dato qualcosa E probabilmente Ha fatto qualcosa Ma senza volerlo Allora qua c'è il lavandino Messaggio Tanto cancellalo subito Even if I can stop one person from watching it It's worth it Ah, scusa Sorry I forgot Oh, non si può aprire un altro rubinetto Perché altrimenti non arriva l'acqua alle docce Ma che cosa brutta E che devo fare Intanto vediamo qua Non mi dà un indizio No Volevo vedere se mi hanno aggiunto qualcosa Ah, ecco perché C'erano un sacco di libri sparsi per la stanza Ho provato a scoprire qualcosa di più Su quella strana nevicata Ma è un mistero Anche per i meteorologi Mamma mia Era così carica Che ho passato tutta la notte A studiare fisica quantistica Ho incontrato Kate nelle docce Mi ha chiesto di restituirle il libro Amo quel libro Devo assolutamente comprarlo Mentre ero sotto la docce Sono arrivate Victoria e Taylor Che hanno iniziato a tormentare Kate Per la storia del video Come se non bastasse Hanno scritto il link sullo specchio Adesso che facciamo? Beh sicuramente dovremmo andare a vestirci Ho sbagliato Nooo Cosa hanno scritto? Messaggio Oh shit Nathan è un'altra Eh sì Queste sono le conseguenze Del fatto di aver Raccontato la verità Al preside Sì infatti Molto disturbante Metti via Ah beh non è che l'abbia Proprio nascosto Pensavo lo buttasse via Mi serve Il libro No eh O no Eh infatti Sposta E adesso Prendi Bene Pianta Come sta la pianta Bene Portatile Fotocamera Aspetta Ma volevo provare Ad usare il portatile Ah quindi lei si sta appassionando Statistica Per capire meglio Il viaggio nel tempo Ah ok L'invito alla festa Beh penso che possiamo Portare il libro a Kate Qua non c'è nulla di nuovo Quindi possiamo uscire Ah giustamente E come si fa Vestiti Possiamo andare Ma il messaggio qua Non si può cancellare No No non lo posso cancellare Va bene Usciamo Numero privato E chi è? Che cosa? Tieni quella boccaccia Impertinente Chiusa O sarà peggio Per te So dove dormi Oh Accidenti Mancava Questo Ah si Accidenti Ma perché hanno Tutti le camere Più grandi Della nostra Mi sembra Molto più grande Questa Allora Diamo un'occhiata Prima di parlare Con lei Tessuto Infatti Adesso stiamo attenti A non perderci Cose importanti Chiamaci Kate Tuo padre Io abbiamo appena ricevuto Una preoccupante telefonata Dal preside Riguardo a te E un certo video Le nostre preoccupazioni Riguardo al mandarti La Blackwell Sembrano fondate Chiamaci Oggi è la fine delle lezioni È il momento di parlare Seriamente Mi auguro che tu Non abbia Infangato La reputazione Della nostra famiglia Pregheremo per te Come spero tu pregherai Per il nostro perdono Tua madre Ma povera Sta proprio male Qui cosa c'è Un volantino Ha un volantino Sulla prevenzione Venite a me Voi tutti che siete Affaticati Oppressi E io vi ristorerò È una gioia Per il giusto Che sia fatta giustizia Mentre È un terrore Per i malfattori Vestiti Kate's room Is usually Immaculate For her This must be A pigsty C'è una foto Damn It's the All American Zombie Family Ah Questa è la famiglia Completa Di Kate Quindi anche due sorelle Forse più piccole No forse No forse la sorella centrale È un po' più grande Non so Mi dà questa impressione Good lord This must be Kate's HR Geiger Period Molto macabro Molto 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 Dobbiamo Assolutamente scoprire Cosa c'era In quel video Un coniglietto No È bellissimo Fagli una foto Per favore No Ma è bellissimo Il coniglietto Posso dargli da mangiare No Qui c'è una foto Ah ci sono un sacco di fazzoletti La luce è splendida Nelle tenebre Ma le tenebre Non l'hanno accolta Katie Sarai sempre la mia luce Più splendente Contro le tenebre Un abbraccio E tanto affetto Papà Abbiamo visto tutto Credo E spero Di sì Do un'altra Acchiata Così veloce Lettera Disegno Penso di sì Allora Po' di bolle Non avevo scelta Proviamo questa Che mi dici di quel video Perché hai fatto festa Con loro Io vorrei chiederle Del video Ma non vorrei essere Troppo diretta Dai Proviamo Non sembra da te, è terribile perché ci sei andata. Hmmmm... ...not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And... And? And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So... Who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate... We'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Ah, devo lasciare il libro. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. I absolutely hate anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Ah, veramente? No, cosa mi fanno scegliere? E qua non servirà a niente poi tornare indietro per vedere l'altra scelta perché è una cosa a lungo termine. vai alla polizia o cerca delle prove? È una cosa che farai in futuro. Quindi qua devo scegliere e basta. Allora, se va alla polizia probabilmente poi tutti sapranno di questo video perché ovviamente diventerà una cosa pubblica e anche la sua chiesa verrà a saperlo, cosa che lei non vuole. Invece, cerca delle prove. Ma le cerchiamo noi le prove o le cerca lei? e che se le cerchiamo noi va bene. Ma se le cerca lei magari finisce in altri guai. Potrebbe essere un problema più grosso. È una bella scelta difficile. Forse a questo punto farsi aiutare dalla polizia non è una scelta sbagliata. anche perché se l'hanno drogata è giusto che lei vada a denunciare il fatto. Proviamo... vai alla polizia. Allora... ... 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 il libro l'ho lasciato posso uscire allora. Va bene. Che ditte? Ci fermiamo qua con questo episodio? Un messaggio da Chloe? Ah, giusto! Dovevamo incontrarci con lei! Ci vediamo lì. Non farti male alle dita forse di digitare. Viva colazione! Niente emoticon! Va bene, dai. Ci fermiamo qua con questo episodio. Nella prossima parte andremo a fare colazione con Chloe. Quindi ci fermiamo qua. Lasciate un commento se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!